Ciao Dreamer, bentornati sul mio canale o benvenuti oggi come promesso video haul anche perchè così inizio ad utilizzare tutte queste belle cosine che ho comprato un po' in vacanza e un pochetto in questi ultimi giorni, proprio ieri ci sono degli acquisti recentissimi cominciamo dalle scarpe ho tanta roba da farvi vedere quindi vado velocemente e allora sono stata proprio ieri, ieri, ieri labbata queste scarpe qua da 59,99 le ho pagate 9,99 quindi un affare e sono questo modellino qua tra l'altro è anche l'ultimo numero io porto il 39 e sono fatte così, in questo modo argentate con questo tacco squadrato abbastanza alto però molto comode il legno c'è stile legno non sono molto brava a descrivere scusate con questo fiocchetto argentate così mi piacevano molto anche come mi stavano e niente se avevo anche un abito lungo ieri quindi con un abito lungo sono top queste qua le prime sono queste poi ho preso un altro paio di scarpe questo è molto più da tutti i giorni e l'ho preso in vacanza che sono queste qua che potrebbero non piacere perché infatti l'ho già utilizzata è un partici caso però sono molto comoda hanno il tacco squadrato fatte così a me piacciono molto anche come fantasia e anche questo è il quale ho pagato intorno ai 15 euro come scarpe per ora abbiamo finito qua poi ieri sono stata da Piazza Italia e da OVS e ho preso da Piazza Italia solo una maglietta però diciamo che c'era anche un top che mi piaceva molto che forse passerò a prenderlo che è questa magliettina qui molto molto carina leggera estiva pagata 10 euro ed è appunto verde fatta così con lo scollo così qua davanti molto carina con questo elastico in vita c'erano vari colori c'era verde giallo rosa pesca nera e bianca credo giallo era molto bella però non mi convinceva adesso a me insomma non me la sono neanche provata perché penso che non sia un colore che mi stia bene invece il verde direi proprio di sì questo è un verde bosco molto molto carino le manichine sono fatte così il prezzo era molto allettante e ogni tanto io qualcosa la compro la Piazza Italia da OVS però compro anche molto online ne vado in base un po' all'ispirazione c'era anche un top molto bello sul marroncino che non mi dispiace affatto da Piazza Italia forse ci tornerò mi sono dimenticata di dirvi se vi interessa sulle labbra ho un matito di chicco e il contorno labbra invece l'ho fatto con questo qua di cost che è molto bello è fatto matt poi da OVS ho preso questa palettina che brammavo da un po' che è la Carmi Makeup Revolution Carmi appunto è un make up artist italiano quindi molto 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 top e ne hanno parlato molti youtuber bene di questa palettina il pack è così molto bello insomma è soggettiva la cosa mi piace molto poi io adoro l'azzurro ed è fatta in questo modo glitterata un po' oleografica e i colori sono questi ci voglio fare sì certamente tutorial con la recensione molto molto belli e soprattutto questi qua dicono che sono effetto clean to power adesso verifichiamo subito e facciamo qualche swatch sicuramente l'oro wow questo qui il viola e poi prendiamo anche questo qua non vi rifaccio tutti ma comunque il suo internet li trovate ampiamente anche qua sul web in effetti la consistenza ricorda molto la palettina quella di NYX la Mocchi che tra l'altro ho scavato ce l'ho utilizzato tantissimo e ha molto questa consistenza cremosa e poi si sfumano da dio guardate veramente belli questo è un duo chrome stupenda l'ho pagato intorno agli 11 euro ci sono dei matt dei satinati degli sheer e appunto ci sono questi qua che sono molto belli sono questo effetto che appoggi il dito e un pochino fa la fossetta quindi questo effetto un po' cremoso green to power lo specchio è sempre molto apprezzato sapete che a me Makeup Revolution piace molto come marchio e quindi non me la sono fatta scappare spero che ne faranno altre su questo genere perché mi piacciono molto comunque anche i matt hanno l'idea proprio hanno l'aria di scrivere molto guardate anche questo giallo che bello molto particolare e da OVS ho preso no ci sono andata due volte quindi vorrei evitare di fare tagli oggi così lo monto direttamente il video che dite che facciamo prima mi sono lavati i capelli quindi sono un po' sparati però non mi dispiace questo effetto balayage voi che dite ha comunque le fiale del video che ho fatto questa butola che non mi serve a niente le odio del video che ho fatto quello lì adatelo a vedere che è molto carino quello lì dell'estetista story time quella fiale che ho utilizzato è fantastica è veramente fantastica mi ha rivitalizzato i capelli in una maniera assurda comunque è ancora presto per recensirle adesso finisco diciamo il pacchetto poi vi faccio sapere meglio poi 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 sono passata da Kiko per i saldi da Kiko ci sono passate due volte una volta mentre ero in vacanza là sulle Alpi vi rimando ai vlog andate a rivedere perché sono molto simpatici molto carini e poi ho ripreso molte zone veramente belle ed ero là vicino al Lago Maggiore sono andata al centro commerciale e ho preso varie cose allora queste qui le ho prese al ritorno vabbè ve le faccio vedere tutte insomma una parte di queste le ho prese quando ero in vacanza perché Kiko sapete dappertutto e infatti gravellonatoce abbiamo lo scontrino di gravellonatoce qua che ero là vicino si vede si che si vede comunque una parte ho preso alcune cose là e ho speso 21 euro e 52 e altre due cosine le ho prese quando sono tornata a casa che sono queste due che lo scontrino non so dove è andata a finire con l'altro comunque qua ho speso intorno di queste due cose intorno ai 12 euro ora vi faccio vedere quello che ho preso a gravellonatoce appunto quando sono stata in vacanza alle terme allora ho preso due long lasting che stavano in saldo a 2 euro allora uno è il 40 uno è il 41 manca a farlo apposta guardo il cane che stava per abbaiare che è questo colorino qui un turchese e questo qui invece è un verdino verde prato molto molto bello scriventissimi l'ho già provato veramente molto belli ci potete fare un look anche solo usando questi senza l'ombretto perché sono a lunga tenuta allora ne ho profittato tanto le scatole le butto provvisoriamente li rimettiamo dentro poi ho preso questo qui che stava sempre in sconto che è un water eyeshadow di questo colorino di questo colorino il dito è bellissimo c'è tipo un giallo oro pazzesco questi qua vedo neanche ci andate piano quando li prelevate perché sono delicatissimi io con loro ci vado matta ve lo dico c'è proprio il trucco oro mi piace un sacco infatti non vedo l'ora che arriva l'autunno e l'inverno per fare un sacco di trucchi oro trucchi oro bronzo questi trucchi qua un po' particolari poi ho preso questo qua che è un patch per gli occhi che a proposito mi hanno dato anche uno sconto di 10 euro se arrivavo a 20 euro da utilizzare ad agosto su una spesa minima di 20 euro per avere questo buono sconto dovevo raggiungere i 20 euro in realtà li ho superati ho speso 21 e qualcosa quindi ho preso questo contorno occhi al miele che mi ispirava particolarmente sono questi patch che vanno per il contorno occhi e poi ho preso l'invisible touch la cipria questa qui non mi fa proprio impazzire come diciamo praticità però è figa da vedere è un po' quando ho guardato una macchina e dite figa da vedere proprio da vedere se è pratica ad utilizzare non so se questo paragone diciamo è azzeccato però è molto diciamo che fa il suo lavoro ecco non l'ho utilizzata nei caldi più caldi perché là dove ero non era caldo affoso si sa benissimo però mi sembra che faccia il suo lavoro opacizza bene queste cose qua la cipria l'ho pagata in sconto allora l'ombretto 6,29 i due ombretti in stick a lunga tenuta 2 euro 2,09 i patch per il contorno occhi la cipria 9,09 quella che è costata di più però insomma mi ispirava l'ho presa spero di non perdere questo buono sconto distratta come sono ok poi abbiamo altre due cosine molto molto belline che sono questo qua della legna waterflower magic il blush che tra l'altro era l'ultimo colore il numero 3 pink shiver il pack è questo qui cioè che carino cioè io non amo particolarmente il rosa ma lo trovo veramente femminile mi piace un sacco e l'unico colore che mi piace era questo qui questo degradé dicevano che profumava ma io questo profumo non lo sento è proprio neutro ed è questo qui molto molto carino dedicato l'ho preso perché mi ispirava un sacco il colore ed era proprio in saldo a 4 euro una cosa del genere e poi ho preso il power foundation della linea ocean fill che ha anche l'SPF 50 il numero 01 fair anche questo è un pack veramente delizioso tra l'altro ha anche il fattore di protezione 50 quindi ottimo ovviamente ho preso il più chiaro questo qua è proprio un fondotinta in polvere da utilizzare d'estate o quando volete il colore questo qui è un colore medio chiaro e dentro ha anche la spugnetta che io le trovo molto comode quindi mi piace molto questo qua è costato un pelino di più sui 6 euro credo ho perso lo scontrino non ve lo so dire con esattezza comunque più o meno non ho speso più di 12 euro tutte e due le cose e da chicco abbiamo finito non era questo no questo è lo scontrino delle scarpe poi mi è arrivata questa questa cavolatina da aliexpress non so se farvelo vedere è praticamente questo questa mini lavatrice che tra l'altro si potrebbe anche fare un video per metterla alla prova che non l'ho ancora aperta che va a pile ma non si è grande non pensavo che è questo qui vedete ah perfetto no perché qua ci va l'adesivo io pensavo fosse vedete qua pensavo fosse proprio il disegno del prodotto invece so dovete attaccare voi è tipo un sticker vabbè comunque è tipo una mini lavatrice per lavarci le spugnette e i pennelli e ci vanno le pile mi sa no di che mica non devo aprire sto cosa e metterci le pile vabbè ora verificheremo mi sa di sì perché non parte intanto attacchiamo su stickers qua diventa più carino così qua dove è sopra cioè ragazzi art attack momento bambini se li volete far collegare in questo momento bambini ho attaccato il display della lavatrice e qui c'è la signorina che deve fare i panni vedete no secondo me ragazzi le pile vanno messe qua va svitato vanno messe le pile ora ci guarderò no dico che simpatica speriamo che almeno funzioni ok come sono stata di nuovo da OVS come vi dicevo ci sono stati in due tranche e ho preso anche queste cosine qui che sono questi orecchini che in sconto li ho pagati 2,90 euro molto molto carini questi qua fatti così e questo qui della I Love Makeup che è sempre Makeup Revolution che mi ispirava un sacchissimo che sono tipo quelle tavolozze di cioccolato fatte così di illuminanti rosa e diciamo cioccolato bianco e i colori sono questi così magari può non dire nulla non so d'avrlo rotto così magari può non dire nulla però vi faccio vedere solo il illuminante che lavoro che è poi potete un po' giocarvela voi nel senso che guardate che bello e ho dato una passata leggerissima potete anche utilizzarlo sugli occhi come ombretto questo rosa per esempio ce lo vedo veramente bene vediamo se è lo scontrino così vi dico no ragazzi lo scontrino sarà rimasto nella busta come al solito sempre distratta comunque questo guarda resta proprio intorno ai 6 euro più o meno intorno ai 10 euro entrambe le cose la moto adesso fantastico poi sono stata da primark ad arese che poi ho fatto anche il video che potete vedere nei blog delle vacanze tra l'altro farò un altro weekend sempre le termine in un altro posto e vloggerò di nuovo ci sarà un po' meno non starò una settimana però non vedo l'ora perché voglio rilassarmi un altro po' e sono passata da arese da primark ho speso 30 euro circa ok 30 euro circa ho preso diverse coltina allora ho preso scusate sono un po' di confusione vicini allora ho preso questo set di salvettine spruccanti le gently 1 euro e 50 erano 3 pacchettini queste qua però 2 li ho già utilizzati non mi fanno impazzire poi ho preso questo qua di NYX non c'entra niente questo profumino qua che è appunto di Ariel che è della Disney The Little Mermaid Ariel che è la mia principessa Disney preferita mi piacciono un sacco insieme a Jasmine e a Mula no vabbè mi piacciono tutte vabbè comunque se devo scegliere Ariel è la mia principessa preferita che sono 100 ml di prodotto anche solo da collezionismo ho voluto prenderlo perché è veramente molto bello vedete anche solo da soprammobile però il profumo sorprendentemente è anche buono è molto dedicato comunque non è una profumazione molto persistente però è molto buono mamma mia stanno facendo un sacco di confusione e vabbè andiamo avanti poi ho preso questo qui che è sempre Little Mermaid appunto sirenetta che sono questi brillantini che vanno sul viso molto molto belli mi piacciono un sacco questi colori poi ho preso queste spugnettine qui per il trucco che mi sono veramente veramente molto utili a 1,80 euro ho preso le sabattine a 6 euro guardate che carine queste qua della Disney che sono di bambi che queste qua sono già belle che pronte per l'inverno e poi ho preso i dischetti di cotone da 50 a 1 euro questi qua grandi che mi ci trovo molto bene direi basta poi sono passata da NYX e ho speso 9,90 euro per questa colla per glitter però mi serviva è un po' costicchia un po' è un po' costosa però appunto mi serviva è una colla per glitter poi mi è arrivato un paio di orecchini questo qua sempre su Aliexpress non mi ricordo quanto li ho pagati ragazzi però sono fatti così scusate è un video confusionale oggi è fatto così vabbè sono gli orecchini fatti in questo modo e poi vi volevo far vedere anche gli occhialini che ho preso quando sono state in vacanza che sono questi qua dell'arena per andare in piscina sott'acqua appunto perché a me mi dà fastidio il cloro negli occhi e ho preso gli occhialini poi ultimo pacchettino così non vi annoio troppo vabbè prendetemi caffè patatine quello che volete e scusate la confusione la prossima volta cercherò di rimediare ho preso da maionon appunto vabbè questa l'avete già vista se avete visto il vlog la palettina di jeffree star la thursday appunto vi faccio rivedere velocemente i colori sono questi bellissimi comunque li vedete anche nel vlog non ve li sto a sbocciare l'ho utilizzato un pochino quando sono stata in vacanza e mi piacciono un sacco i colori ragazzi è una scrivenza pazzesca ve ne faccio vedere giusto questi qua shimmer questi qua tre sono questi guardate che belli è pazzesca questa palette è pazzesca sono pigmenti pressati hanno una scrivenza ottima la durata altrettanto quindi pazzesca 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 è la prima di una lunga serie mi piacciono tantissimo sono veramente super orgogliosa di questo acquisto poi non ho preso nient'altro però vi faccio vedere quanti campioncini che mi ha dato mi ha dato un sacco di campioncini tra cui mi ha regalato anche un braccialetto ve lo faccio vedere della della Guerlain me l'ha regalato la commessa da Marion che è appunto un braccialetto fatto in questo modo guardate che bello un po' egiziano e mi piace un sacco veramente molto molto elegante l'ho messo anche in vacanza poi mi ha regalato un sacco di campioncini tantissimi di questo profumo della Givenchy sia da uomo che da nonna allora questo penso proprio che me lo comprerò perché appena lo metto dicono tutti che è buonissimo in effetti ragazzi questo penso proprio che lo comprerò anche se costicchi abbastanza però lo prendo perché ne vale la pena è veramente buono ogni volta che lo metto mi dicono tutti ma quanto è buono questo profumo dove l'hai preso è buonissimo e allora ho deciso che lo compro oppure me lo faccio regalare per l'anniversario che sarà il 15 di agosto poi ultima cosa che vi faccio vedere è questo tonico astringente che ho preso in farmacia della Vichy che l'ho pagato 12 euro mi ha fatto lo sconto anche su questo farmacista e anche qui mi ha riempito di campioncini di questa cremina che si chiama Juwae che mi ha detto che è la linea giovanile della Lirac e mi ha dato anche un profumino di Caudalie poi mi ha dato un sacco di roba idratanti ringiovanenti acido ialluronico crema della Venn qua sono piena adesso devo mettere via tutta sta confusione ultima cosa vi faccio vedere sono andata a vedere Man in Black poi vi farò la recensione sia di Annabelle sia di Man in Black e sia di Spider-Man quindi se vi interessa questo genere di video seguitemi però stavo pensando addirittura di fare un canale a parte per queste cose molto molto carino molto molto simpatico e dove vado io regalano i segnalibri scusate per questo video confusionale ma ho veramente alcuni vicini che sono dei maleducati e quindi grazie a tutti per aver visto per aver visto questo video spero di avervi intrattenuto di avervi tenuto compagnia avervi strappato un sorriso fatemi sapere se anche i vostri vicini sono psicopatici come i miei vi mando un grosso bacio iscrivetevi al canale seguitemi su instagram e attivate la campanellina ciao